Qui andiamo su uno schermo da 10.1 pollici, quindi leggermente diverso rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza. Qual è la caratteristica di questo prodotto? Dotato di tastiera come accessorio, possiamo lavorare, possiamo editare, possiamo scrivere tutto quello che riteniamo opportuno. Ovviamente parliamo sempre di tablet touch. Qual è il grosso vantaggio? Non appena abbiamo terminato di editare il nostro contenuto, abbiamo necessità di mobilità, vogliamo muoverci in qualche modo, possiamo tranquillamente separare la tastiera dal display e possiamo, e siamo in assoluta libertà, in assoluta mobilità, quindi al 100% possiamo trasportarci questo prodotto che continuerà a essere utilizzato da parte nostra come un prodotto touch senza nessuna difficoltà. Qui parliamo di un prezzo al pubblico, la disponibilità a partire dalla fine di marzo, è un prezzo al pubblico che nella configurazione base partirà da 600 euro, 599. Senza l'accessorio? Senza l'accessorio. No, con l'accessorio, 599 con l'accessorio. Quindi questo è il primo che esce di tutto il gruppo? Questo è il primo che esce in sequenza di nuovo, prima il Windows 7, poi il 10 pollici Android e poi il 7 pollici Android.